Voglio uscire dal buio, prendere poca luce, perché dentro di me è sempre buio, ogni giorno, ogni notte. Non so cosa devo fare della mia vita. Adesso devo camminare per uscire dal buio. Jessica Nel 2013 la CGL di Bari decide di fare un'esperienza con le detenute della casa circondariale del capoluogo e decide poi a posteriori di realizzare un libro per raccontare l'esperienza di queste donne, di queste invisibili dietro le sbarre. Quest'idea della scrittura creativa. Magari loro potevano anche non comunicare con noi, con le parole. Però quelle parole dovevano essere scritte, parole che dovevano rimanere. Come dire, scrivere, sporcare un foglio bianco, ma un foglio bianco con sentimenti, anche con disegni, con qualsiasi cosa. Io credo che poi loro, io credo che il grazie a volte noi pensiamo, pensiamo, loro pensano che il grazie lo devono dire noi a loro perché siamo andate ad incontrarle. Invece dobbiamo dire noi grazie a queste donne, perché con loro noi abbiamo incontrato la loro umanità, abbiamo conosciuto anche i loro difetti. E quindi questa comunicazione, questi abbracci, perché comunicare significava anche a volte abbracciarci. Sto vivendo questa giornata buia come tante altre, perché non so nulla dei miei figli. E questo buio cresce giorno per giorno e fa tanto male. Il buio fa paura. Nel buio senti suoni e rumori, hai pensieri e ricordi. Marcella. Il carcere è un luogo di costruzione, quindi qualsiasi spazio di libertà vero, non costruito, non una sovrastruttura, ma un vero spazio di libertà, di espressione, è un'occasione che comunque loro hanno. Nel momento in cui si aprono ed esprimono se stesse, hanno l'opportunità di recuperare delle parti di sé che probabilmente sono anche represse. Gli incontri sono stati tantissimi, le donne hanno potuto esprimersi liberamente rispetto a una serie di temi e anche di creare un rapporto molto profondo con gli interlocutori, anche di fiducia.